No, no, no Dobbiamo fare di tutto perché il cinema Costantino, questo presidio della cultura che interessa sia Macomere ma tutto il margine, non chiuda. Dobbiamo fare di tutto per dare un segnale forte alla città, dobbiamo rimboccarci le maniche perché veramente se Macomere diventa una città che non ha neanche il cinema, veramente avremo difficoltà a risollevarci. Consigliere Pirisi, ma come si fa a paragonare un cinema, un cineteatro ad una macelleria? Oggettivamente come si fa? Voi avete avuto modo di leggere nei verbali, io sono rimasto esterrefatto, sono stato io che ho sollecitato in questo senso perché io penso che quando si arriva a dire che tutte le attività commerciali, quindi confondendo un cinema, un teatro, una libreria, con cui io sono un consumatore di carne rispettosissimo di tutti i macelleri e delle macellerie, anzi, però la differenza va rimarcata. Una libreria è una libreria, un libro è un libro e non può essere confuso con una bistecca. Chi fa questo sta facendo un danno enorme non solo alla comunità, non solo in questo caso al cineteatro Costantino, ma fa un torto enorme all'intelligenza propria. Quello che sconcerta è l'atteggiamento del sindaco che è venuto a proporre la maggioranza all'acquisto del Costantino senza aver evidentemente verificato al proprio interno, all'interno dei suoi consiglieri comunali, una volontà in questo senso. Posizioni assolutamente differenti da parte della sua maggioranza, anche un po' offensiva quella dell'assessore al bilancio quando parla o descrive il cineteatro Costantino come un'attività commerciale che ha delle difficoltà. Io non penso che i proprietari abbiano mai avuto delle difficoltà nella gestione del cinema. Hanno solo detto che dal momento che noi siamo i proprietari delle mura, però il nostro cineteatro fa parte del patrimonio culturale della città, cerchiamo di occuparcene insieme. Questa istanza non è stata accolta. La proposta sulla quale stiamo ragionando è centinaia di volte più vantaggiosa rispetto all'acquisto, perché l'acquisto richiede un investimento di almeno 15 anni. Poi se il comune diventa proprietario della struttura, chiaramente non introita più nell'Immu, nelle tasse comunali, quindi il bilancio verrebbe comunque depauperato. Mentre la soluzione che abbiamo proposto noi di una convenzione con il Costantino per mettere la struttura a disposizione delle associazioni per un certo numero di serate da concordare nell'importo, nella modalità, è molto meno onerosa. L'appello che noi rivolgiamo è un appello veramente accorato a tutti i cittadini del margineplanarge, alle associazioni culturali, alle associazioni sportive, a coloro che oggi sono impegnati nei cori a vario titolo, e con tutti coloro che ritengono che uno spazio culturale non debba morire. Per cui crediamo che una mobilitazione forte debba essere fatta e che tutti debbano far sentire la voce al sindaco e alla giunta di Macomere, che stanno dimostrando su questo argomento una insensibilità che noi non ci saremmo mai aspettati.